A due anni dal blocco oggi riaprono le corse d'ospedale per le visite ai pazienti, i familiari potranno tornare nei reparti, serviranno la mascherina FFP2, il Green Pass rafforzato o se si è guariti da meno di sei mesi un test negativo eseguito nelle ultime 48 ore. L'accesso non sarà consentito ai visitatori in possesso del semplice Green Pass base da tampone antigenico molecolare. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti.